nuovamente in saletta oggi con una modifica sostanziale sperimentiamo un cambio una un'inversione tra tom da 10 e il timpano da 14 questo perché voglio fare un po di allenamento su tersine e sestine iniziando con la mano destra voglio che si crei questa scala tra da suoni alti a suoni bassi quindi essendo il primo colpo di destra voglio trovarmi più aggivolato quindi spostarmi semplicemente con il braccio verso destra e non in avanti e con il sinistro in avanti quindi molto più in maniera molto più naturale piuttosto che questi incroci di questo tipo vediamo quello che succede no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.